Un'auto è uscita di strada autonomamente e dopo aver letteralmente abbattuto un palo della luce ha terminato la soccorsa nel giardino di una casa a ridosso della Nazionale, illesi fortunatamente i suoi occupanti. È accaduto questa mattina intorno alle 4 e 30 lungo la strada statale sud all'altezza del Civico 29. Una BMW Serie 3 Cabrio con a bordo due giovani e guidata da un ventenne di Senigallia che procedeva in direzione Marotta per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale ha perso il controllo dell'auto e dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantata contro il palo dell'illuminazione stradale. Stupore e sconcerto della proprietaria dell'abitazione a cui sono andati a suonare il campanello. Mi hanno suonato il babbo del ragazzo che ha avuto l'incidente dicendo che mi sarei trovata questa macchina nel giardino. La prima cosa mi sono rassicurata che non si fossero fatti nulla questi ragazzi e mi ha detto che non si erano fatti nulla e mi ha detto mi ha lasciato i suoi cellulari, i riferimenti del babbo e del ragazzo e che in giornata sarebbero passati un caratterezzo a prendere la macchina. I danni sono notevoli, la siepe ha indivelto un palo della luce. Io penso che però la prima cosa sia la salute dei ragazzi, poi i danni vengono in secondo ordine secondo me quindi l'importante è che non si siano fatti nulla loro, i danni verranno ripagati.